Sono una sognatrice creativa e pragmatica. Il sociale per me è il mio destino, è il luogo in cui ho potuto realizzare un sogno e in questo momento è una nuova opportunità per rimettermi in gioco. Dopo questi mesi particolarmente difficili mi piacerebbe riportare un respiro alla scuola dell'infanzia e per farlo credo che mi metterò in ascolto, in ascolto degli insegnanti, in ascolto dei genitori ma soprattutto in ascolto dei bambini perché insieme possiamo costruire una nostra scuola. Alla domanda iscriverei mio figlio al sociale se l'unica risposta che ho è io a suo tempo ho iscritto mio figlio al sociale. Alla domanda è una scuola.